Ciao a tutti ragazzi qui c'è Shadow e siamo in una nuova puntata e come vedete non siamo sul solito Minecraft ma oggi siamo su Don't Serve per chi non sapesse cos'è Don't Serve lo capirete subito quindi facciamo New Game ci sono vari personaggi vabbè ho solamente The Gentleman Scientist e vabbè Play e Don't Serve è un giochino di sopravvivenza devo dire fantastico a me personalmente piace tantissimo e vabbè ovviamente da giocatore di Minecraft è il genere che adoro quindi è comprensibile che mi piaccia e che dire su questo gioco non so di che casa sia quindi non so di chi o cosa l'abbia prodotto comunque l'unica cosa che so è che è fantastico aspettate che ok il mio parere è che è un diciamo un survival appieno cioè è un vero e proprio survival perché non è come Minecraft ad esempio che puoi ottenere cose tramite bug e robe del genere è fatto veramente bene ci sono aggiornamenti quasi ogni giorno e su Don't Serve visto che mi sta molto appassionando ho fatto anche un sono andato anche un po' avanti su un altro mondo per vedere come si giocava di che parla e quindi io questo episodio lo carico se vi piace fatemelo sapere perché continuerò a caricarli comunque perché a mio parere è ripeto un fantastico gioco vediamo la mappa ah è la zona bisogna vedere bisogna vedere scusate il telefono mi rispondono in casa e dicevo è una mappa si scopre man mano che si diciamo si visita questa qui è la steppa se non mi sbaglio mi servirebbe cibo eh il cibo è un problema il cibo si può ottenere mi sa scoppa no che palle mi sa che i conigli si catturano con le carote però non ne sono sicuro questo qua mi assomiglia al deserto di minecraft molto figo molto figo molto figo no mi ha dato i semi erano bei i semi erano bei i semi e se bene sto raccogliendo tantissimo di questa roba perché è la cosa più utile che ci possa essere ah perfetto mi serve anche la legna eh scusate eh quindi per la legna dobbiamo ritornare di qua semi ah 40 è lo stock lo stock massimo scappa 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 mio mio rabbit mio rabbit bastoso 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 scusate se sentite le parole di mio fratello solo perché sta dando tipo i compiti a un suo compagno eh quindi scusatemi eh allora prendiamo blueberry dammi esame dammi esame bastoso eh allora dobbiamo prendere questi cosi per fare il campeggio allora come vedete l'impostazione è questa qui i giorni di sopravvivenza eh la vita e la fame eh non so se sopravviverò a lungo però ci provo la prima cosa da fare è il fuoco per ora perché diciamo è la cosa che ci tiene alla larga dei mostri e io ho paura dei mostri carota è qua allora prendiamo tutte ste cose che sono sempre utili e potrei farmi un'ascia perfetto ciopete 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 oh ti abbatte 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 dai e abbattiamo questo papà 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 dai quelli più grandi sono ovviamente più difficili da distruggere li prendo perché mi serve la legna anche poi li ripianto tranquilli ehi semi prendiamoci questi quindi questo video darà inizio a una nuova serie che amerò forse più di quella di minecraft o fuoco facciamo il fuoco ma e intanto bsb ok diciamo che mangiamo posso cuocere tipo si posso cuocere ok mangia mangia perfetto ok vediamo se ci dai semi sebi no sebi no ragazzi mi sto suonando sempre il telefono ma che palla ciò per te vai abbatte 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 i suoni sono semplicemente fighissimi sono c'è una cosa e dai oh perfetto deve essere bello grosso perché non voglio problemi non voglio assolutamente problemi perfetto e dovrebbe durarmi abbastanza intanto prendiamo questo grass abbattiamo questa perfetto guardate come vedete sopra siamo ancora in piena notte quindi ho paura del dei mob perché fanno male perfetto potrei prendere questo ok torna 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 perfetto allora intanto possiamo vedere per sopravvivere backpack trappola science machine il pickaxe cos'è la flint ah mi serve flint come fuoco invece ah il campfire ah io una di queste me la farei perfetto che può sempre essere utile eh quella lì si consuma solamente se tenuta in mano poi survival mh eh sì dai facciamocelo perfetto eh poi trappola mh ce la facciamo e dai facciamocela yeee abbiamo finito il primo giorno vediamo me lo segna tipo sulla mappa se mi allontano se mi allontano no vabbè me lo segnerà e questi qua che sono ah è per piantare il coso eh si si possono cuocere i segni vediamo semi oh perfetto i semi cotti sono più buoni adesso vediamo di tipo craftarci qualcosa perfetto datevi i semi uh ah ah che ha passato a scappare non sapevo 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 ah meno male O mio dio Che brutto spavento Giopete Vai Ok Ma per fare questo mi serve Ah le rocce E quindi mi devo fare la flint E quindi andiamo a trovarci un po' di flint va Quindi esploriamo 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 Allora Allora Ah è qua Perfetto 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 Vai Ah Ah questa qua come si fa Ah perfetto E' una Una trappola per animaletti Quindi la piazzo che so vicino al campeggio dopo E ragazzi arrivo subito E rieccoci ragazzi scusatemi tanto Stavo a vedere bene la registrazione Bello I will destroy you Mi piace come frase Picca il grasso Ok No adesso dobbiamo esplorare bene perché mi serve flint Non voglio passare un'altra notte a stracacchio Eh fra un po' si fa di nuovo notte Uffa Quel coso è un covo di ragni e non mi piace per niente Ah Qui questo qui è il deserto Il coso Il Eh un due e tre E il cimitero Se con la pala scaviamo lì E riserciamo le cose che ci danno Possono uscire anche cose molto buone Allora visto che abbiamo Lo zaino Vabbè per ora non serve fare niente Intanto mi prendo tutti Ah Ah No Ok Sapling Perfetto Prendiamo anche questo Adesso si fa di nuovo Dovrei accendere un altro accampamento Sicuro Allora Vai Quelle cose sono buone da mangiare Dammi se No Prendi Prendi Ok qua è bello protetto Quindi Criamo il fuoco A posto Crea No Dammi seme Purato Ma che pallo Cook Bravo Mangia Petals Si mangiano Mangia Mi stai facendo finitutto Questa qui Settola Oddio E' notte E' ho dato Ehm What Ehm Cosa Ehm Cosa What Io Avere paura Ah Perché Ho dato Voco a tutto Vabbè Meglio Vero E' meglio Si Ah ma adesso mi da il charcoal Se non sbaglio Oh però io ho paura Cos'è questo Stanno ancora andando a fuoco Ho sterminato tutta una foresta Ah Mi sento figo Mi scuso per tutti gli ambientalisti che mi stanno seguendo però cioè Io ho fame Qualcosa potrebbe essere un problema Cosa posso craftarmi col charcoal Dai Ehm La trappola Dai che fra un po' finisce pure una notte sta andando bene Va bene ragazzi appena arriva il giorno so non ho fatto niente vabbè comunque finisce questo episodio Ehm Ci vediamo anche all'altro Eh si no Science machine Ah questa qui è quella Sì mi serve anche Gold nugget Rocks Per le rocce mi serve il piccone quindi mi serve flint E si ne avremo da fare nel prossimo episodio Adesso Diventa pure giorno Ok Qua ci prendiamo i seeds Abbattiamo un po' di questi E mi sa che il charcoal alimenta tanto il fuoco Non è stata usata per niente la trappola Beh la userò tipo con quei conigli Mi vuoi dare sto charcoal Ok Quelle lì sono le rocce Queste qui Qui ci sono ancora Così Perfetto Non ho visto che giorno cuociamoci sti due semi 3 Ehm Dove sono i semi Se puoi sapere dove sono Dove Eccoti Perfetto Tu mangia 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 Dammi pure tu Due Wow Pam Pam Mangia 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 Ah perfetto proprio Ok Eh tipo se metto questa qua Questi qua Log Questi qua mi possono servire La torcia pure Così va bene Ok ragazzi Eh Per questo episodio è tutto E ci vediamo alla prossima Puntata Ciao 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 ciao